Abruzzesi nel mondo e l'orgoglio di poter rendere il loro omaggio. A Pescara, la regione Abruzzo, rappresentata da Donato Di Matteo, ha voluto insegnere di un riconoscimento, un uomo divenuto capo dell'intelligence canadese. Si tratta di Luciano Bentenuto, originario di San Valentino in Abruzzo-Citeriore, trasferitosi ad Ottawa molti anni fa con l'obiettivo di portare la sua italianità e ancora di più il suo Abruzzo, oltre i confini europei, fino a diventare una figura di grande rilievo. Io ringrazio la regione per aver fatto quello, però credo che il senso è piuttosto che io mi sono impiegato all'estero per cambiare un po' l'immagine dell'italiano che abbiamo, l'italiano, scusa l'espressione, spaghetti mafia, allora si deve togliere quell'immagine e io mi sono dato come una missione personale di contribuire a cambiare quello, perché io ho fatto 30 anni nel mestiere della polizia locale e federale e ho sempre avuto un po' di discriminazione fatta contro me, perché è un poliziotto italiano, ma può essere che lui è deritto, sì, sì, il 99% dei geni italiani non hanno problemi. L'Abruzzo che ci rappresenta al meglio, così l'ha definito l'assessore regionale di Matteo, orgoglioso di potersi fare portavoce della sua regione, sottolineando come spesso l'Abruzzo dimentichi le sue spiccate qualità e i grandi traguardi che i suoi cittadini hanno raggiunto e sanno raggiungere per meriti lavorativi e non anche fuori dai confini geografici. Io credo che sono queste figure che nel panorama degli abruzzesi nel mondo appresentano il nostro orgoglio per questo Abruzzo distribuito in tutto il mondo. A queste figure noi dobbiamo guardare con grande interesse e quando costruiamo le riconoscenze per i nostri ambasciatori nel mondo dobbiamo prendere dalle alte qualità che ci sono nel nostro Abruzzo distribuito nel mondo, nei vari stati. Grazie a tutti.